Torna come ogni primavera nella splendida cornice della villa comunale di Salerno la mostra della Minerva, una tre giorni dal 7 al 9 aprile dedicata alle piante e a tutto quello che fa giardino. La manifestazione organizzata dal comune di Salerno e dall'associazione Ortus Magnus con il patrocinio della regione e della provincia riunisce tutti gli appassionati del settore florovivaistico, tante le attività proposte per grandi e bambini dai laboratori didattici alle visite guidate alle mostre fotografiche con espositori in arrivo da ogni parte d'Italia. È tutta un'etica che è sviluppata in questa manifestazione, è nata per follia quasi però ora rimane per passione e questa è una cosa che ci fa molto piacere. Diciamo che ci inseriamo in quello che è un progetto di sostenibilità a livello nazionale, non dimentichiamo che cinque emendamenti sono stati presentati per detassare tutti i progetti del verde, dal privato, al pubblico, dalle ville antiche ai piccoli giardini. Il nostro è un progetto che si è sviluppato a dismisura e facciamo grande fatica, noi che non siamo imprenditrici, a progettare e realizzare un evento del genere che rappresenta un momento culminante della primavera salernitana.